Parliamo di Bagnoli perché il Comune sarà dove? In Commissione Servizi, lei l'ha annunciato. Noi siamo sempre in tutti i tavoli, io voglio far capire che noi stiamo su Bagnoli da sempre in tutti i tavoli istituzionali e se oggi finalmente il Governo ha annunciato di cominciare la bonifica è perché noi abbiamo avuto un grande profilo istituzionale talmente alto da ordinare a chi ha inquinato di pagare, quindi nella conferenza di servizi certo che ci saremo perché là ci saremo e là diremo le cose che si devono dire su Bagnoli e nella cabina di regia che noi non ci saremo mai perché quello è un luogo assolutamente illegittimo e non saremo complici di un'operazione in violazione della città di Napoli della legge e della Costituzione Repubblicana, quindi penso di averlo detto una volta per tutti perché vedo che qualcuno fa ancora un po' di confusione.